Allora, direzioni spontanee per aggiungere cose. Ma perché ora? Perché soltanto dopo la requisitoria dei ministeri e l'arrigna degli avvocati difensori sono tornate alla memoria tante cose. Poi ho fatto degli approfondimenti che credo possano servire per ulteriormente comprovare l'assoluta estranità alleata. Questo è uno dei pochi casi, forse, in una terra nella quale voti di scambio chissà quali ce ne sono in cui questo reato non c'è. L'ho detto al primo momento, credo che oggi potrò raggiungere la realtà perché il grosso mi hanno fatto, come è giusto che sia, gli avvocati difensori, qualche elemento in più perché il giudice, capisco che arrivo quasi fuori tempo massimo, possa esprimere un giudizio che si arricchisca anche di questo mio contributo.